segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te significa essere co belligeranti essere anche noi in guerra l'europa si deve mettere tutta unita insieme cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le domande di putin le parole di berlusconi le avete sentite e le avete comprese ci tiene però il presidente di forza italia a chiarire lo ha fatto con una notte in serata che la posizione di berlusconi di forza italia non è cambiata ed è perfettamente in linea con quella del ppe dell'europa e dell'alleanza atlantica e quindi è doveroso inviare le armi e roberto arditti mi spieghi un po che cosa sta facendo berlusconi perché non è la prima uscita